Quasi 50 anni di carriera, che in fondo sono il divertimento, per fortuna sua e nostra non ancora cessato, di un incorreggibile, libero, irrequieto monello. O meglio, gamen, come dicono in Francia. Un gioco? Certo. Forse l'inseguimento di un ideale in continuo mutamento che ha lasciato lungo il sentiero una vario-pinta e imprevedibile scia di maschere. D'Anton, l'infido tartuffe di Molière, l'abbate d'Onisan di Bernanos, lo scultore Auguste Rodin, lo spadaccino verseggiatore di Rostan, il gambista barocco Mare Mare, Cristoforo Colombo, il moschettiere Portos, l'ombroso e risoluto Edmond Dantes, Balzac, il dolente Jean Valjean, François Vattel, fra i più grandi maestri di cerimonie del Seicento, l'ingordo, fumettistico Belix, l'ursus de l'homme Chiri di Hugo, fino ad un melliflo Stalin, cesellato sotto la guida registrica di Fanny Ardain. Mille volti, semplicemente, Gerard Depardieu. Classe 48, originario di una famiglia umile, suo padre fu un operaio addetto al taglio lamiera, Depardieu crebbe in una famiglia di cinque figli, tra fratelli e sorelle. Dopo un'adolescenza durissima, che lo vide sfiorare perfino i margini della delinquenza, scoprì in sé la passione per il teatro durante un viaggio a Parigi. Allievo di Jean Laurent Cochet, il nostro muove i primi passi sul grande schermo nel 1970, rivelandosi definitivamente al grande pubblico quattro anni più tardi, come simpatico Marivuolo in fuga nelle valseuse libertaria moderna favola di Bertrand Blier, con Miu Miu, ma soprattutto nel 76 con il discusso dittico 1900 di Bernardo Bertolucci, dove vestì i panni di Olmo Dalco. Dell'eccezionale, nota a tutti, longeva avventura cinematografica che seguì, vedremo oggi insieme tre significativi esempi. Il primo è L'Eretour de Mautenguer, del 1982, suggestiva opera seconda di Daniel Vigne. La vicenda prende forma nel 1548. Martin, bracciante della Languedoc, più precisamente del villaggio di Artigas, nella contea di Foix, lascia patrimonio, fattoria, figliolino e Bertrand, la giovane sposa, per andare in guerra. Otto anni dopo, amici e familiari avranno la fortuna di vederlo tornare. Dopo un iniziale alterco con lo zio, e nonostante la diffidenza di molti compaesani circa il carattere, assai difforme per quel che rammentano, tanto fu greve e collerico ieri quanto altruista e giocoso oggi, la gioia per l'apparizione di colui che si credeva, appunto, caduto in battaglia, fuga ogni dubbio sulla sua identità, senza contare che l'uomo conosce troppo bene per essere un impostore i più intimi segreti della moglie. Egli è Martin Guerre, senza alcun dubbio. Non di meno, pur col passare del tempo, certe voci resistono e riaffiorano. Che avesse perso una gamba nelle fiandre, ad esempio, eppure entrambe le gambe sono al loro posto. Ancora, che a far ritorno al villaggio non fu il vero Martin bensì a, no, compagno d'armi preciso a lui come una goccia d'acqua. In breve, chi ha colto nel proprio letto Bertrand? Un semplice incauto speranzoso di redimersi in questa seconda vita offertagli, o un bruto che trae astutamente profitto da uno scherzo del fato? E la stessa Bertrand, allora, vittima innocente delle circostanze, oppure sposa da molto, troppo tempo infelice, che ha segretamente, lucidamente scelto di trarre vantaggio dalle stesse. Domande che tormentano Jean de Coraz, il giudice del processo per Frode che andrà a imbastirsi, e ugualmente lo spettatore. Riflessioni sulla capacità quasi illimitata di ingannare e ingannarsi, insita nella natura umana. Riflessioni non lontane dall'opera di Luigi Pirandello e un grande spettacolo, armonicamente si fondono in questo melodramma. Ispirato all'omonimo libro a metà strada fra saggio, romanzo di Natalie Simon Davis, illustre docente di antropologia e storia medievale all'Università di Toronto, la pellicola di Daniel Vigne resta tuttora un modello ineguagliato di rievocazione storica, avente per fonti i documenti del Tribunale e i resoconti parlamentari della Toulouse del Tempo, nonché gli stessi appunti del giudice Jean de Coraz che compendiò in seguito in uno scritto intitolandolo Ares Memorable, datato 1561. A rimpreziosire il tutto i contributi di André No alla fotografia, di Alain Negre alle scene e di Anne-Marie Marchand già attiva sul set del dialogue de Carmelie di Agostini per gli accurati costumi. Tutti e tre insieme paiono infondere vita e movenze alle scene agresti o ai gruppi di personaggi in austeri interni sulle tele rispettivamente degli olandesi Bruegel dell'Inferi e Ian Steen. Atmosfere angosciose quasi gotiche caratterizzano invece in più formalité 1994 regia di Giuseppe Tornatore. In una notte di tre genda un uomo senza carta d'identità viene prelevato con violenza dai gendarmi e condotto in un fattiscente commissariato dove ha inizio un interrogatorio. A breve nel malcapitato si rinvengono i tratti del grande scrittore Onof. Secondo quanto riferitogli un cadavere freddato da un colpo di rivoltella è stato da poco ritrovato nel boschetto vicino a casa sua, delitto per il quale, come prevedibile, Onof è il principale indiziato. Tuttavia se all'inizio il nostro appare vittima di un errore giudiziario le carte cambiano ben presto in tavola. I vestiti mostrano macchie di sangue e la sua testimonianza si invischia in contraddizioni sempre più grossolane. A mano a mano Onof mostra inequivocabili segni di follia, cede a continui scattilira, riducendosi perfino allusingare il già insinuante vicequestore dal momento che questi, fortuna vuole, è un grande ammiratore dei suoi romanzi, capace di citarne intere pagine a memoria. I rispettivi ruoli accusatore e accusato non di meno restano tali. Il primo eserciterà pressioni sul secondo con una tenacia dir poco perversa e con la pioggia incessante in sottofondo e la sola luce di candela a rischiarare la stanza. Vi sarà pure il tempo per confidenze sul segreto dell'ispirazione e il dolore dell'impotenza creativa. Dal momento che un più formalité si svolge quasi esclusivamente in una stanza il linguaggio gioca un ruolo cruciale, come a teatro. Domande taglienti, reciproche bordate verbali, geli di silenzi, umorismo infantile e mordaci risposte ci trasmettono di volta in volta i mutevoli stati d'animo dei protagonisti. Non in memore del processo di Kafka e di certe novelle di Chesterton, il siciliano tornatore qui al suo film più bello e purtroppo ancora poco conosciuto sa perfettamente come organizzare le molte frammentarie informazioni in modo tale che lo spettatore metta ripetutamente in discussione le proprie supposizioni sulle presunte colpevolezza o innocenza di Onof. In questo jeu de massacre, le nostre simpatie oscillano continuamente tra il vicequestore e l'intirizzito romanziere. Ciò non è dovuto solo all'astuzia del copione. Il confronto tra i due uomini beneficia soprattutto delle memorabili prove e di Depardieu che dona al suo Onof un perfetto equilibrio fra arroganza e vulnerabilità e del regista Roman Polanski in una delle rare escursioni davanti alla cinepresa, asciutto e credibile. In tanti sostengono che se Pulp Fiction di Tarantino non avesse gareggiato nel 94, la Palma d'Oro a Cannes sarebbe andata quasi certamente a un più formalité. Ci uniamo volentieri a questo ingenuo ma sincero coro. Sembra infine trascorsa un'eternità da quando produzioni d'oltralpe come Vidocq del 2001 apparvero nelle sale, rivaleggiando spesso surclassando costosi giocattoli a stelle strisce, traboccanti di trucchi, movimenti di macchina fulminei e frastornanti, finissime suggestioni grafiche o pittoriche che vanno da De La Croix a certe litografie di Jericho che ci presentano una Parigi in cui grandezza e miseria convivono, fino ad evidentissime influenze delle caricature di Honoré Dommier. Questo ed altro caratterizza Vidocq. Il regista Jean-Christophe Comar, in arte pit-off, uno dei più quotati creatori di trucchi del cinema francese, dà quindi vita a una fantasia incubosa, avvincente, degna dei suoi mentori, amici e collaboratori di una vita, Jeunet e Carot. Quest'inedita, pericolosa indagine di Jean-François Vidocq, scritta fra l'altro dal giallista Jean-Christophe Granger, inizia nella Parigi del 1830, dove subito vediamo il burbero investigatore un tempo galeotto inseguire una diabolica figura con un manto scuro e al posto del viso una maschera riflettente che crea spaventose allucinazioni visive. Dopo un feroce duello nei sotterranei di una soffieria di vetro, Vidocq viene atterrato dall'avversario e gettato nella fornace. La capitale è in subbuglio per il fatto, la gendarmeria arranca o ha le mani legate, al che un giornalista di nome Thiemboassé si improvvisa investigatore a sua volta per smascherare il colpevole, coadiuvato ob torto collo da Nimier, braccio destro dell'apparentemente defunto Vidocq. L'inchiesta condurrà il giovane Boassé in un mondo sotterraneo, popolato di storpi, mangiafuoco, ingannevoli sirene, un buio regno dove illustri concittadini vivono una seconda, segreta, depravata vita e di cui l'assassino di Vidocq, noto nell'ambiente come l'alchimista, è l'inafferrabile sovrano. Primo lungometraggio francese girato interamente in alta definizione, con l'allora pionieristica, oggi anche fin troppo abusata telecamera sinealtà della Sony, Vidocq ci offre un impetuoso torrente di immagini prima ancora che una storia, in ogni caso non originalissima. Montaggio e riprese si distinguono, come nota il critico Mike Messie, per i bizzarri tagli e inquadrature tutt'altro che convenzionali, modellando una Parigi vista raramente sotto questa luce sul grande schermo, edifici fattiscenti, ciottoli incrinati, strade infangate e cieli che paiono grondar sangue e resina ambrata. Primissimi piani e distorsioni cosiddette ad occhio di pesce immortalano poi gli abitanti, sopracciglia arcuate, narici svasate, smorfie nodose, proprio come le sonnominate tavole di Dommier, ma anche sensuali corpi danzanti come quello di Inès Sartre nei esotici panni di Préa. A voi la bande annonce di Pitof, arrivederci alla prossima, ahimè, ultima puntata dove esploreremo insieme la carriera dell'avvenente Catherine Deneuve. A bientôt. Paris, 1830, tandis che la rivolte approche, un homme è sulle tracche a due ore, senza visage. Si je dois mourir, je veux voir ton visage. Lovidog. Qu'est-ce que tu veux ? Je dois retrouver son assassin. D'accord ! La foudre c'est vraiment le coup de trop, je veux que vous vous chargiez de l'enquête. A mon avis, il est possible d'orienter la foudre, disons, sur une cible. Continuez votre investigation, il nous cache quelque chose. J'enquête sur la mort de Vidocq. Je veux savoir qui l'a tué. Quiconque se reflète dans son masque perd aussitôt son âme. Il est mort à cause de moi. Il est mort à cause de l'enquête. Porte un miroir, hein ? Il a un miroir à la place du visage. Bon sang, Préa, dis-moi ce que tu sais. Vous êtes simplement... Le mal ! Si ton reflet passe à l'intérieur, c'est perdu. Vous êtes folle. L'alchimiste vole les âmes, les esprits. Il les emprisonne grâce à son masque. Une enquête vertigineuse à la recherche de la vérité. À la découverte d'un visage. C'est le temps de la vérité. Vidocq.